Su un totale di circa 1.320.000 euro derivanti dall'8 per mille dell'IRPEF, il 68,59% sono stati destinati alla Chiesa Cattolica, pari a poco più di 990 milioni. Seguono lo Stato con circa 340 milioni, 25,62%, e la Chiesa Evangelica Valdese con 40 milioni, 3,04%. E' quanto emerge dai dati pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze del MEF sulle ripartizioni del 2024 e riferiti alle indicazioni dei contribuenti del 2020.